La pioggia non ha fermato i festeggiamenti del Marte di Grasso per le strade del centro storico di Arezzo. Dai Pokémon alla famiglia dei supereroi, dalle principesse Disney al cappellaio matto, i molti hanno sfidato il brutto tempo e si sono riversati per le vie del centro per far festa, coriandoli e stelle filanti alla mano. Come sempre è stato Corso Italia la passerella d'eccezione per le sfilate dell'ultimo di Carnevale, come tutti gli anni all'insegno del divertimento e della goliardia.